Per quanto riguarda la garanzia della libertà religiosa, durante i colloqui abbiamo anche affrontato, perché è un tema molto sensibile in Italia, le questioni di Eugenia e Zaki, ho chiesto ancora collaborazione da parte egiziana, sia il Presidente sia il Ministro degli Esteri, mi hanno assicurato la volontà dell'Egitto di rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi, quindi anche questo tema è stato al centro dei nostri colloqui e non c'è stato, devo dirlo agli italiani, nessuna reticenza da parte egiziana, anzi il problema è stato sollevato dal Presidente il quale mi ha detto che è intenzione dell'Egitto di risolvere il problema e togliere tutti gli ostacoli a una sempre più profigua collaborazione tra i nostri paesi.